Ho trovato un evento estremamente interessante, intanto sono stata coinvolta su due tavoli che sono molto cari a noi come Venture Capital e Acceleratore. Il tavolo della digitalizzazione, noi siamo un VC, leader di mercato su pre-seed e seed financing proprio per startup digitali, per cui ho avuto l'opportunità di vedere progetti che sicuramente sono vicini alle nostre corde, sono quelli su cui noi tipicamente poi investiamo. Mi ha fatto piacere vedere una larga rappresentazione comunque sia dell'healthcare, che è uno dei verticali molto interessanti per noi, ma anche in generale l'automazione transizione 4.0 e l'intelligenza artificiale. Molto bello anche il coinvolgimento sul secondo tavolo, quello di Aerospace. Noi come Venture Capital operiamo anche su programmi di innovazione delle grandi corporate. In questo momento abbiamo un programma attivo in ambito Aerospace proprio con Leonardo, che ha aperto un corporate accelerator presso i nostri spazi, per cui vedere quanto dinamico è questo ecosistema Aerospace qui in Campania, vedere quei progetti così interessanti sicuramente ci ha dato molti spunti e li utilizzeremo per future opportunità di opening innovation.